E' chiaro che se il pomodoro ha senso farlo a chi non... Cristiano Bottone, cofondatore del movimento Città di Transizione in Italia, quali sono le tue impressioni al termine di questa iniziativa verso la transizione che si è svolta a Camaiore? E' stata una giornata molto bella, molto intensa, è sempre molto interessante vedere questi momenti in cui le persone si riuniscono e cominciano a cercare soluzioni per lo scenario che dobbiamo affrontare in cui abbiamo tutte queste crisi che si incrociano e si è parlato tanto di questo momento che chiamiamo transizione, dei vari possibili percorsi che una comunità può immaginare, può inventare, può costruire attraverso le sue risorse o magari andando a cercare anche risorse esterne alla comunità stessa. E' sempre molto bello vedere come permanga questa capacità, questa volontà di reazione, comunque non ci sia mai questa sensazione di fermarsi e lasciare che le cose vadano come devono andare senza in qualche modo provare a inventarsi delle soluzioni. E oggi era una sensazione molto intensa, anche molti dei partecipanti l'hanno notato, quanto diventi potente poi ritrovarsi e avere il coraggio, anche il piacere di discutere di queste cose. Quindi direi una bella riuscita per un momento di questo tipo. Abbiamo parlato della transizione, magari quella di cui mi occupo io, che è un certo tipo di percorso, ma si è parlato anche in modo molto più ampio di tutti i possibili percorsi di transizione che possiamo inventare o mettere in campo in questa fase. Quando si parla di transizione, puoi spiegare, transizione verso cosa? Abbiamo una profonda necessità di riorganizzare tutto il nostro sistema economico e sociale perché molti dei presupposti sui quali si basava vengono meno. Avremo meno energia, avremo meno risorse, abbiamo un enorme bisogno di equità nel mondo. Quindi è difficile pensare che vorremmo continuare in un mondo in cui ci sono pochi che sfruttano le risorse di quasi tutti. E quindi dobbiamo cambiare, dobbiamo inventare dei percorsi. E questo è il concetto di transizione dei percorsi per andare da dove siamo oggi a dove vorremmo essere domani, in un mondo che magari diventi più ragionevole, più equo, più pacifico e più umano. È così grave la situazione a livello di crisi delle risorse, di distruzione o inquinamento dell'ecosistema? Sì, la situazione è molto 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 grave e ormai abbiamo una quantità di informazioni scientifiche da questo punto di vista che ci lascia pochissimi dubbi. Ci sono alcuni aspetti come quello del riscaldamento globale, come la crisi per il reperimento dei fosfati che supportano l'agricoltura industriale. Ci sono grossi dubbi sul futuro energetico del pianeta. Sono tutti qui e sono tutti problemi estremamente urgenti. Se poi li sommiamo ai problemi dell'equità e della ridistribuzione delle risorse rimaste, si amplificano addirittura. E quindi sì, c'è una grossa urgenza di soluzioni. Quali sono i margini di manovra per una comunità, una comunità locale rispetto a questi temi? Per quanto si possa avere l'impressione un po' di impotenza all'inizio, in realtà a livello di comunità si può fare tanto. E tutto sommato possiamo dire che sempre più esistono spazi in cui non è solo la comunità, ma anche le istituzioni cominciano a consentire cambiamenti. e addirittura li supportano e possono intervenire nelle fasi di trasformazione. Ecco, per una comunità è importante anche saper cogliere tutte le varie possibilità che si presentano e ormai di mese in mese, di anno in anno, cambiano, sono diverse e sono di più. Si riducono per un certo verso le risorse, ma aumentano le opportunità di cambiamento. E quindi tutto sommato è un bel momento per incominciare questo tipo di trasformazione della nostra società.